Allora ragazzi decidete voi, tutti e tre decidete che dove andare perché è un provino per voi E io vado a Loot Lake Allora andiamo tutti a Loot Lake, dai Ma no, ma se, allora moriamo subito Facciamo tre partite, tre partite Allora moriamo subito, ok, tenito Tre partite, ora decise 206, dopo decide Ossa e dopo decide Paolo Sono Ossa Ma quali provini malevati, what the fuck L'ho scritto io, ops Anubi, ma quali provini malevati, ma va a cagare Io ti ho scritto adesso Oh ciao, lo so, adesso ho scritto ciao Io mi sono buttato il tappo perché stavo scrivendo Allora, ora vi devo fare almeno uno di voi Eh, aspetta Quanti che devono fare però? Raga, perché Ossa Dria è andato a... lì? Eh no, perché mi sono buttato il ritardo Oddio, è proprio 20... Non l'ho capito Mi sono buttato il ritardo Cos'è f***a 20... ah, 206 Oh, no niente Raga, aspettate che faccio... oh... Devo andare su... devo andare su... Ashtag sono morto, non c'è un'arma E magari tu se vieni con noi Ashtag ci goda come un porco Ashtag sta zitto Oh, un bel pompo blu non mi fa... oh, ma che schifo, mi sembrava un po' un po' Oh, dico... Ma allora sei in alto Ma c'è qualcuno, rega, perché non lute Ok Anubi, devi sempre commentare Io non ho capito Sì No, non parlo con te Parlo con Anubi Eh, raga, da me c'è gente E vieni da noi e così non muori, magari Raga, dov'è la gente? Me lo spiegate Oh, qui dove devo fare Un becciocchino è mio, è mio becciocchino È mio becciocchino Mio 3 kill almeno No, no, vediamo come giocate Non mi interessa se fate 10 kill Se tu magari... se magari... che ne so Ossa regge il fight meglio di 206 Ma 206 fa... che ne so 8 kill in più Che sarebbe impossibile per più di 9 Che vuole un po' un po' più, rega No Eh, vieni qua Dammi 206 il col... bravo Raga, io so tutto comunque Ho la vita Io no Oh, quella trappola è mia Raga, non prendete la trappola Sennò poi si arrabbia Grande, 206 Sì, così Grazie, Nubi 8 kill, eh? No, no, tranquillo Non li farà nessuno di loro 3 8 kill Chi te lo dice? Se fai 8 kill... Tu gestisci tu il canale Ma come no? Ma non ho capito Ma vuoi parlare intero a Nubi, madonna Che... non mi ricordo se sei zizio o varenna Ho le mani troppo fredde No, non vi... Vabbè, che gente competitiva No, io 8 kill non li pretendo Pretendo che reggono bene il fight E facciamo vittori tutti Eh, fate vittori GG per voi Raga, però dovete venire con me E già sta cosa O Sadrino mi piace Dove siete voi? No, devi venire con me Non me ne frega niente Ma che vi avevo visto voi? Ma che vi aveva visto Che vi sia tornato Raga, però in teoria Non dovrei fare tari Io dovrei Ma che reggono la Coca Cola Al massimo Mi dici dove? Ok Raga, io lo sparo Finché non è strettamente necessario Per vedere come giocate E mi aspettate? No, ragazzi Eh, no Sadrino mi spiace per te Sei stato tu che non c'è Che ci hai lasciati Eh, ne stiamo buscando Oh, madonna Provo aiutare No, raga, ce n'è uno qua Ok Una kill suicida di Marco E falli giocare a loro Expectali No, vabbè Tanto non Cioè, non è che faccio Non gioco bene Tanto non mi interessa In questo momento Come faccio ad avere 400 di materiali? Ma dove sono sti qua, regà? Tratto, non li vedi? Ok, pallo argento Non c'è un materiale? Con della gente E non li conosci No, ma non mi ha messo la traffola Non mi ha messo la traffola Tu ci sei? Raga, siete veramente Scarsissimi Che ho fatto una kill Ma dove sono si può? Oh Ma stai zitto papà, per favore Eh, vabbè 44 a 1 48 Ma quant'è vita adesso? Ho giocato un botto Quanta vita Vabbè ragazzi Continuiamo Aspetta Anubi Anubi Stai vedendo ancora la live? Se vuoi vedere la live Scrivimi Eh, no Però prima devo essere sicuro 20 bombe Sì Vabbè Dai Anubi Ti faccio mod Aspetta Anubi Sei mod No, se ne andava Eh, vabbè Tanto non giocava Raga Squadra Ora decide Oh Due Ora decide Però Ossatiri dove andare Aspetta E piccola Falli In coppio Uno per volte Oh bene Ragazzi L'ho detto Anubi Io mi suicido Dai Facciamo Fidati Va bene Anubi Va bene Ti ho fatto mod Da posto Brava Anubi Ragazzi Prima devi scrivere Allora ragazzi Però decido io dove andare Bella Eh, gg Chi è l'invi? Ciao Eh? L'ha scritto Uno che c'è Eh? Ah, bene Allora Aspetta Anubi Allora Aspetta che ti faccio mod Intanto Mod A posto Eos Eos Diceva prima Ma perché non parli in modo italiano? Vabbè ragazzi Ragazzi ora mi suicido E voi andate E voi andate Come si chiama? Voi andate dove? Dico io Ma sei tu che non capisci un cazzo? Ma chi lo sta dicendo? E andiamo a PR Ehi aspetta Ehi aspetta fammi vedere la mappa prima Però devi capire un po' A palmetto o pin Oh ma c'è Ma non ho capito No allora Andate Cominciate ad andare Eeeh Vabbè ragazzi Io seguo Anubi Dico a te Marco Svegliati Andiamo a posto a tempo Andiamo a posto a tempo Vabbè No 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 Andate qua Palmetto Ma no Ma non possiamo fare il scopo Vai a palmetto Intanto Prima parli a palmetto Eh non me ne frega niente Eeeh Io mi suicido Vabbè si fanno così E provini Probabilmente uno si suicida E l'altro Fa da solo Fa da solo Così intanto guardo Ah sono un dittatore Sei peggio di Mussolini Zizi Porca C'è gente Non me ne frega niente A posto Allora uno Raga vi ricordo che siete contro Cioè non siete contro Vabbè dai C'è un'arma Grazie questo qua C'è un'arma 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 Vediamo come gioca Vediamo come gioca 200 Vediamo come gioca Sadri intanto Zizi Allora te l'enchi tu Scrivi in chat No fra Fra non puoi Non sei andato a palmetto Io No eh tu non sei andato a palmetto Ma erano ragioni di palmetto No Devi andare a palmetto No non me ne frega niente Ora ora vai a palmetto E push Oh leee Sì mica Oh tu sei contro di lui In teoria Vabbè ho capito che nessuno di voi Dove entrare nella team Eh Boh Ragazzi possiamo andare dopo No andiamo in parco giochi Per favore Va bene Io vedo chi è più forte Avrà voi due Perché uno di voi due Entra E l'altro no Vediamo se fa qualche kill Se fa qualche kill Magari Non c'è bisogno Di parco giochi Però devi giocare bene E con queste armi tu dici Eh Non me ne frega niente Onestamente delle armi Chi Ci sono dei pro player Che giocano con la Con la Con qualsiasi arma Eh Vai Oh ma ti muovi Donna Non è che puoi stare qui Tutta la vita Pusha Se no grazie alle palle Che scelgo 206 C'è Però io non trovo un'arma Che palle Eh bravo Grazie alle palle Bravo Non mi interessa So che non ti interessa Però che cavolo Eh eh Non ci posso fare nulla Ossa Se non te ne vai Io Io Cioè Lascio subito 206 Senza neanche guardare Il parco giochi Sì Dove facciamo Parco giochi Ma perché non mi vuole Aprire la Oh Alleluia Che botta di più E noi ho proprio pistola Al posto di quella Oh ma fai zitto 206 Che parli sempre Lascialo giocare Vabbè Se vuole giocare così Lascialo giocare così Però mi devi pushare qualcuno Sennò io non vedo niente Come gioca Ok C'è qualcuno Però io non sotto gioco Ma vai a pushare tutti Dai lo capisco io dove sono Sti qua Ok Guarda 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 Ma perché non mi mira Ma questo joystick di me non va Non mi mira Devo cambiare il joystick di me Dai Sto pucciando Aspetti Sto vedendo dove sono Però non posso Vai là Un nabbo Cioè se vai là Te lo fai Intanto tu non devi parlare 206 Parla solo lui E al massimo io posso parlare Ma tu non puoi parlare proprio Ok Bella mossa Rieccomi Ciao a nudi Praticamente morti Stai morto Vai pompa Vai pompa Vai pompa E ti vedi la cosa E muore E muore E muore Ciao Sandro No fra se perdi contro questi Io non posso crederci Dai E' morto Allora dentro i miei colpi Perché mi aprile questo studio da solo Dai Frate Ma perché mi aprile questo studio da solo Ma perché mi aprile questo studio da solo Ma 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 come hai fatto Ero un nabbo Sandrilli tu vuoi venire a fare il profino Per favore Vabbè Facciamo parco Sì facciamo parco Sandrilli Lo so Nubi lo so Per cosa Secondo te Ciao zizi Zizi Tu stai giocando Pr Facciamo delle big battle Big battle Come non la fai La fai con loro Sandro Fa il provino Ti prego Grazie Sandrilli ci serve uno forte qua Sennò qui non andiamo da nessuna parte Ma questo ABB Mi ha scritto che è normale Sto per fare la doccia Eh E allora Infatti No cioè Va bene Meglio per te Che giocare Che giocare Ha capito Vabbè ma dopo non giochi Verso le 9 non giochi Zizi Mi ha chiesto di giocare Lo scemo Mi hai chiesto di giocare Scemo Sì ma togli il moderatore Commenti Non capisco cosa hai detto Sandrilli Sì ma togli il moderatore Commenti che non possono scrivere Più di pochi messaggi Allora Ah quella roba che Eh devo capire come si fa Che cos'è sto provino Eh in pratica sto facendo un team Sandrilli però devi entrare tu per favore Ci serve uno forte Oh Oh aspetta un secondo E tuo canale youtube Eh Eh Ti posso sponsorizzare Metti Vuol dire che se scrivo troppo Mi blocca Non è possibile Arrivo Quando finisco sta roba arrivo Lo so Allora stai Intanto ti faccio modi A posto Mamma Sandrilli è moderatore Mi vado un play con un attimo Ah no ma raga Eh voi andate a Pinnaquil intanto Ma cos' Fanno botte per provarci Raga ma faccio Ma tu stai zitto Sandrilli che sei un pro player della madonna Madonna oh mamma mia Che devi dire Eh sì ma sono scarso Sei fortissimo E lo sappiamo tutti Vero zizi che è fortissimo Sandrilli Non lo vuole dire Perché sei zizi Oh ma sto parlando in chat Io sto guardando la chat E sto parlando XT Mi vanto con la Psicologia inversa Ma cosa Ah e vabbè Ciao ciao Michele Quando giochi Mi posso scaldarmi un attimo Perché Sto arrivando Ok Michele Tanto tu sei già Oh sei Sei Ma vuoi che parla Rina Ma vuoi che parla Italiano Per favore Non capisco più niente Adesso ti faccio bloccarla live Ma tu stai zitto un po' Madonna Che nabbo Bella che gioca pure Michele X Che almeno Una buona Arriva Sandrilli tu non giochi Dai per favore Sandrilli mi servi Sennò qua Cioè È giocare inutile E siete già in quattro No Sandrilli ora escono loro Non hai capito Ora entra uno tra loro due Può provare ad entrare Perché il team vero Non ce l'ho Senti come tratta Quelli del proprio Il nostro O manipolatore Gli da dei nabbi No ragazzi Allora io non vi ho dato Dei nabbi 206 Ti ho dato del nabbo No Eh allora Non ho detto a nessuno nabbo Di stare zitti Mi disiscri What the fuck Annubi intanto io non gli ho dato del nabbo E loro stanno facendo il pro Beh 206 fa un po' Non posso dire Ma quasi quasi tolgo Annubi moderatore Era uno che ha detto Ma fa os Sì ti ha detto nabbo Uno No no Magari ora lo tolgo Ragazzi Aspettate un secondo Che tolgo Annubi moderatore Aspetta Ma cazzo Tu intanto devi stare zitto E non devi parlare Ragazzi Cambiate squadra Per favore Ma a me A me a te os Aspetta Era Sandro Coglione No Non dirgli No ma secondo Ragazzi Stai spalmando troppi messaggi Ma quella regola che Ma non lo so Non so come si fa Ma scusa eh PR Ancora Come fanno a far guardare Lo schermo Cioè Si lamenta degli iscritti Ma Vabbè Va bene Io sto capendo i commenti Non sto capendo i commenti Che stanno facendo i miei compagni Comunque Potete per favore Cominciare una billbattle Magari Aspetta Primo lutto Perché ci derane Pessime Io non c'ho neanche il pompa Non ne ho trovato niente Oddio Tu hai delle armi belle Sì Tante armi belle No Tante armi belle Uh che build Eh vedi Sandrolli Però non so editare Eh vedi Non so editare Non ce la faccio So editare male PR Mm PR Eh PR Sì Che cosa c'è Stai lagando? No Non tantissimo C'ha 15 di ping Oh che non Ti ho sentito Per un po' Anch'io non ti ho sentito Raga Uno di voi cambia squadra Per favore E io è dito di merda Che ho ancora Il coso Da tenere Sandrolli Tu devi stare Solamente zitto Perché tu sei un pro player Ma sono conviti Di essere In partita Ma sono parco No way Poverini Io gioco alle nove Ok Dopo allora alle nove Facciamo Se sto nabbo Dio non vi gioca PR Eh Vieni a guardarci Ditemi dove siete Io vedo solo Ossa E grazie Ci sono anch'io No way Uga buga Vai da Ossa Che io sono Da Ossa Eh Lasci me di fare Mi lascio di fare Ancora Rip Ero convinto Ehm PR No intanto no Intanto vai da Ossa Perché non sto Io sono qua Tanto per prendere Per fare scena Io sto aspettando voi Che giocate Il mio rebello C'è un m16 bianco E qua c'è lo scarpe Vero Ah c'è lo scarpe Ragazzi Stiamo arrivando a 100 messaggi Ma è terrone Quello Ma chi Ma chi Mamma mia Che non capite niente Ragazzi Ma dove siete andati Vado a prendere lo scarpe d'oro Va bene Vatti a prendere lo scarpe d'oro Sì Però raga In partita normale Mica avete Aspetta Scusa Vado a prendere lo scarpe d'oro Così vinco il fight Oh che 100 messaggi Non battetemi il record Ciao Daniele Daniele No Però Daniele Ah beh Può fare anche lui il provino No Ma tu I cosa In commenti Ragazzi Siete due nabbi Ho detto Fare la big battle E voi vi uccidete a vicenda Sei stupido E' stupido Ma chi ti parla Claudio Ma chi ti ha detto che sei stupido Raga dopo che ho scritto a Sandrelli Di non battere 100 messaggi Non sto scrivendo più nessuno Ma quale provino E vatti a rivedere l'inizio della live Non ho voglia di dirlo No non è vero Allora sto facendo Ma forse l'ho detto a tuo fratello Fatelo dire Raga qua Abbi battle Per favore Ce la Ce la Fai a spiegarlo In un minuto Allora Ho detto Ragazzi ho detto a folci Oggi Perché abbiamo registrato Un video Che poi Lui editerà Chiaramente E ve lo metterà Ho spiegato Che volevo fare Un piccolo team Abbandonate Che gioco anch'io No Scusami Daniele Ma non posso Perché Stiamo Stanno facendo il provino Allora No Daniele Non posso Mi spiace È un provino Per creare un piccolo team Di 6 o 7 persone Oh vuoi venire Osta Dove sei E basta E volevo Cioè tanto da giocare Magari qualche sera Magari quanto faccio la live Ma niente di che Cioè niente di competitivo Tanto perché So che molti di voi Comunque non sono scarsi Ma sono bravi Come Sandrelli Ma non lo vuole ammettere R Guardaci R Allora intanto aspetta Allora aspetta che vado in alto Così vi guardo dall'alto Ma dopo allora andato Andò Non ho capito Ma puoi parlare italiano Per favore Perché non capisco Aspettate un secondo Aspettate 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 Allora ragazzi Ne fate 3 E chi fa Chi fa il numero Maggiore Parte 3 2 1 Via Ragazzi anche voi Anche voi scrivete Di chi per voi è migliore Io vedo 206 rc Baggatissimo Ma perché Tipo che ballo Come una testa Intanto ballo Anch'io No ho sbagliato Allora Intanto sta 200 Quella non può E' un build fight Può fare quello che vuole Eh però Vai Sandrella Sandrelli Commenta Tu sei forte Confronta me 206 stava cadendo Riprende Ok Lo prende Eh ma È in vantaggio Io lo vedo Io vedo Baggatissimo Aspettate un secondo Ragazzo io che sto costruendo Sto costruendo io Aspetta Sembra che usano il legno Eh no Ah vero Io voglio Giusto il materiale Ok Ok Comunque siete veramente Magghiaccianti Cosa Ok 200 Ok 200 Raga a me basta vedere questo Ho già visto abbastanza Io voglio perché mi stoppi Emozionante Io comunque ragazzi Ho visto Prima abbastanza Posso già sapere Ah no Questa è la prima Will fight È vero Sì raga Ho visto abbastanza Oh ma dove sei? No Sono caduto Eh ragazzi Mi spiace Comunque io ho già Il vincitore Della prima manche Senza Senza neanche vederlo È solo Raga posso dirlo Già Sì ma chi ti ha nominato Leader del gruppo Di sto provino Del Kaiser Allora Sandra Il canale youtube È mio Questa gente Non è Eh per me il vincitore Di questo primo fight 206 Ma chiaramente anche Ma Thank you Ok Dai Perché builda Molto più velocemente Eh Allora Spaccate giù Ucch Cattivo Questo build Mi ricorda il mio rovescio Tennis Ma il ragazzi Rovescio di Michela Tennis è stata una cosa Epica oggi Dai vieni Raga 99 messaggi Allora comunque 206 Vuoi farne una con me Per favore Tanto Aspetta Spatemi questo Vabbè Aspetta Vai Farne una con me 206 Dimmi quando Aspetta Vai Ah ma io Ho pochi materiali Vabbè dai Oh Che bastardo Mi hai chiuso Oh mi hai chiuso anche a me Eh lo so No raga io ho quasi Cioè al metallo Solo Anch'io Ho finito i materiali Oh non l'ho già visto Perché non mi Perché non mi Costruisce Ok perché non mi Spara No che caga Oh aggressivo 206 Oh ho finito i materiali Quasi anch'io Ma io l'ho proprio finito Io no Ancora no 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 ragazzi come ha fatto A passare Il colpo Fermo i materiali Oh bravo 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 Mi basta questo fight Non ho ancora capito Come Non ho ancora capito Come hai fatto A prendermi Tra la scala Però vabbè Vabbè Il gioco Non sento il gioco Nelle cuffie Allora 3 2 1 A post Sandrali non è più moderatore Tg E stacca 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 Sto provando ad attivare Laudine Perché non sento laudine I miei cuffie Vedo che non vuoi gente buona Almeno c'è gente che A cui piace il mio canale E non che mi prendete il culo Sandrali Tanto al massimo si può bannare tranquillamente Sandrali E non me ne frega niente Sandrali Hai capito Farò più scarso di te Però Non si può manco scherzare Eh sì Tu scherzi troppo Per me Il rinibus Sandrali E io faccio solo Ma Intanto non ti banno Ringrazio E ringrazialo Ringraziami Ma non sento il gioco Ma ho capito Scusa Piango Non piangere Non mi interessa So che stai scherzando Ma non mi interessa Anestamente Io qui 10 Ehi Ah ragazzi Ah per favore Fate l'ultimo build fight Poi usciamo Perché Devo fare il provino A ninja della matematica Lo fa Lo può fare con me Allora no Intanto Comunque So Già il vincitore Ah beh No 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 Scusatemi Scusatemi Fate questo fight Vai Vai Ok Ok Ah è finito Mille volte Mille volte Non mi interessa niente Allora ragazzi 31 sandrelli 41 Chi vince quello Allora no Faccio un fight contro sadri e vediamo chi lo vince Ok poi facciamo io E a questo punto se vince lui per me questo è un pareggio Tranquillo e possono decidere quelli che stanno guardando la live Perché io Per me siete quasi uguali Non costruire Non costruire Allora Inizio eh Dai Aspetta Quanti materiali hai? Eh pochi però va bene Ah pochi 3 No Anche io ne ho pochi Cogli ho 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 Ok Prenditi un po' A posto posto Basta 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 Non so che disdetta Sono Eh lo so 3 Aspetta un secondo Ora col secondo aspettate Allora Allora Ma io c'ho pochissima vita adesso Hai un 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 Slurp Hai un slurp Perché Stai fermo Stai fermo Stai fermo Ma stai fermo Ma stai fermo Cosa fai? Eh Buona Ma Uccidemi A posto Ragazzi Bannato Ma Uccidimi Uccidimi Ti uscito io Tranquillo Ah ok Vai raga facciamo per favore Arrivo perché avevo poca vita Quindi lui mi ha colpito E per parte Marco 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 Prova a fare Marco Trova a fare In 800 secondi A posto Fatto Vieni qua per favore Andiamo Dai 3 3 2 1 Via Ma no Allora si vede già che PR è molto più forte a costruire Vabbè questo non ne avevo dubbio niente con te Ma franne sei nella mia squadra È vero No non l'ho bannato ragazzi L'ho sospeso Non è bannato E onestamente uno che si disescrive per me lo posso anche bannare tranquillamente Perché è fatto completamente a posto Ma stai fermo cosa fai tu Cosa fai Cosa fai Oh ragazzi però avete rotto il cazzo Tutti e due Cioè Oh intanto queste parole non gli dici intanto Solo questo Intanto queste parole non gli dici Eccoci Lo dici a un'altra persona intanto Allora ragazzi per me Raga io posso fai dare contro voi due tranquillamente Vai 3, 2, 1, via Raga fai date Fai date con normali così Comunque Ninja La prossima volta mi fai il favore di bannarmelo tu Grazie Passo 1 Anche Michele se vedi ste robe lo banni per favore Perché uno che si disescrive a posta non mi interessa onestamente Chi dovevo bannare? Sandrelli No ragazzi lo già Eh cosa Se la prossima Se qualcuno Se qualcuno la prossima volta Comincia i siti E mi disescriva a posta A posto Tranquilli ragazzi Lo bannate tranquillamente Anzi forse lo sospendete meglio Ok va bene Michele Ok va bene Michele Grazie Però queste cose non mi piacciono Ma voi dove siete? Io sto fai dando con lui Che sei? No 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 perché sono caduto? No No Eh anche io non ci credo Ma adesso mi provi? Non c'ho materiali Adesso si 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 Faccio finisco questo fight Non avevo finito i materiali L'ho detto Te l'ho già detto Daniele Tu fai il provino tranquillamente Tuo fratello è già dentro Mi spiace ma Sto lavorando tanto Cioè sta Perdendo anche un po' di tempo Per questa cosa E quindi lui è già dentro per me Senza alcun problema A posto una Che ti avevo visto? Che ti avevo visto? Vabbè grazie Ora mi uccido sicuro E comunque Samu è la prossima vita Ora tranquillamente Magari non mi uccidere Per favore Non mi uccidere Magari Non sparare neanche a lui Perché? Perché sto finendo Il fight con lui Perché non mi E vabbè Non mi costruisce Ti togli Ostia Madonna Mi hai fatto cadere E' vero No Non mi costruisce Stai la tua Stai laggando Stai laggando Non sapevo Fra non sai quanta vita ho Io Ma io Io Non mi c'era Non mi c'era Non c'era Naudro Eh Ti dobbiamo leggere Cinque minuti Ti aspetto Sì ragazzi Sì 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 Sette di vita Vabbè io non ti avevo Mettere Che caso Ragazzi ho deciso Comunque Io ho deciso Che far Chi è? Chi è il più forte? Tu Ragazzi per me Potete entrare Tutti e due Tranquillamente Tutti e due Tutti e due Basta che però No 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 Non mi interessa 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 Gioco Vabbè Vabbè a posto Vabbè ragazzi Potete abbandonare Ora tocca al ninja Della Va bene Possiamo Posso fai fare Io Allora Comunque Raga Sandrilli è stato sbannato Mi ero pure iscritti Mi banni Bella storia Eh lo so Sandrilli mi spiace Cosa? Ma niente Allora Ciao Daniele Vita Eh allora no Aspettate eh Allora Tolgo voi due E spello Dani No 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 Guarda lui Raga Aspettami Eh no Come faccio No 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 Sì dovete andare Per favore Ciao Ciao Ma Facciamo una Una creativa Che così possiamo stare Dentro di tutti No 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 Non ci sentiamo No Sbagliato Ragazzi scusatemi No Mi hai bannato E tu ti sei disiscritto Oh mio Dio Addio Però Eh da dove è Michele Ah po' No No Ti sei disiscritto Ti ho visto Allora Beh mi hai disiscritto Da un canale Con 41 iscritti Non è che ho problemi Non è che ho problemi io eh Ciao Michele Un belà merda Michele No aspetta che Tanto ti sei Hai visto questo Si è disiscritto Cosa Mustafà Si è disiscritto Apposta Ehi Bastardo Eravamo arrivati a 40 Volci Volci mi raccomando Tu mi devi bannare Mi dovete bannare In 8 Mi dovete bannare in 8 Così Non esco di galera A posto Beh quindi che si fa? Tra l'altro c'è Ripeto Ho le cuffie Dal live E il microfono Dal gioco Dobbiamo invitare Daniele Poi se si potrebbe Buttare fuori Mustafà Non sarebbe una brutta cosa Mustafà non vuol provare? Tanto Se si disiscrive È niente Quindi Mustafà non vuol provare Eh si è disiscritto No esatto Eh non può essere più Tra l'altro mi sono già Iscritto Però non è che mi cambia molto No Fra non l'hai visto Non ti sei iscritto intanto Ah si è vero A posto Allora puoi fare il provino Ciao Daniele Michele Sì ma non è che Mi ricatta Dicendo che mi banna Perché Non è che Tranquillo Non ti banno più Michele Ehi dimmi Ma perché Daniele Non lo sento Perché Non lo so Io me lo sento Ora lo sento Ora lo sento Ora lo sento Ragazzi No sì sì Raga io Io mi succedo Vi guardo No vabbè Michele è ovvio Il Mustafà Vediamo Vediamo E Daniele Ma facciamo Facciamo creativa No squadra Ma comunque Siamo arrivata 123 Messaggi No no Parco No no Non mettere parco Non mettere parco Ma se dobbiamo Fai i provini Non mettere parco Mettiamo squadra Ma facciamo i provini Facciamo i provini Che è più divertente Eh Li fai su qua Non c'è Quelle cuffie belle Perché se no Non capisco niente Ho l'impressione Che mi si sia bloccato Poi Vabbè dai Tu buttami fuori E metti qualcun'altro Che A me Ha bloccato Allora Vediamo Ma che Banc E' Prostitamente Tu Continua Ad Giustra Chezio Online Ma non lo vedo Dai vai Mettete pronto Per favore Oh Mustafari Pronto Allora Vabbè No no Calma Funziona 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 Ma Che 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 Eh Raga Non sento Un cazzo Perché Ho Tutto Le Che Rotte Ma Ma Vi sentite Bene No Sì sì Ti sentimo Bene No Ragazzi Ho sbagliato Sì sì Io ti sento Bene Ho sbagliato Ho scritto Ok Sulla Sulla Chat Ok Io sono nella 1 Io sto nella 1 Oh Michele quanti ne teniamo nel team Uno io sto nella 1 Sto nella 1 Io sto nella 1 Io sto nella 1 Tanto tu sei il più forte lo sappiamo tutti Sandrale Non c'è neanche bisogno di giocare Sì è lui quello che ho bannato Oh Michele quanti ne teniamo nel team Due Boh non lo so i team sono massimo da qua Quindi ne fai io Otto allora facciamo quelli quei due di prima Sandrale Sandrale lì se Io Io No 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 ma io non sto nel team E allora vai via Raga abbandonate Ma fammi cazzeggiare 5 minuti Eh fammi fai due qua Vabbè allora guardo Daniele Sto parlando Ho una voce bassissima Perché non posso Ma allora cosa sei entrato a fare Sandrale Raga il fatto è che Ma chi è che alita sul microfono Raga Chi è che sta alitando sul mio microfono Raga squadra due e io Dicevo che al piccolo sono amicino Ho capito ma perché Sandrale sei qua allora No non sto capendo niente perché le cuffie sono rotte e ho capito Dammi il capocino Perché sei qua non si spara subito per favore Allora sono qua per fare due fight per non annoiarmi e dopo mi guardo io No 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 tranquillo non è che ora mi guardo boccano picco tutta la prima stagione Il minanotte E credo tu sappia che questo è boccano picco Sì lo so Raga non sparate per favore che hanno il mio palazzo Ma se mi spai E tu mi hai sparato Eh diro bravo bravo Raga mi devo abbassare la crescita Io non ho capito ancora perché sei qua Ma io non ho capito ancora No te lo ho già detto tutto Sto qua a 26% c'è faccio due fight e dopo me ne vado se dovete fare il provino d'altro E queste cose qua Cioè se devo dare il posto a qualcun altro o se devo vincere Raga ma sostienzo Ah sai E io sto lottando con molta dedizione Oh non sparate perché io non ho ancora un pompa No anche io non c'è una roba Dai Michele non è un piccadino Che cosa fa? Ah Certo Vabbè Occipo come il riso era tipo lo super malvagio Dai ti mette nel palazzo Ma cosa c'entro io? Io devo essere Ah no scusami sei tu Michele Sei tu Daniele scusami Pensavo fosse Sandralli Ah perché mi devi uscire che devo andare a cercare Ah queste polsi Ma che cosa è che ci sono da un'altra parte? Ultimo questo è loro Sandralli Eh grazie ma mi fai prendere un nonno magari Ho lasciato un tac Sai che skin ho? Sai che skin ho? Io non lo so che skin avete voi Ho la skin ho la skin ho la mano Ho il nonno lama Vieni io non ti sparo Cioè se vuoi sparmate Io Chi ti spara? Chi ti vuole sparare? Non so che riesco a giocare E spara mi vai io devo solo scappare E devo solo scappare Non mi interessa di spararti onestamente GG per te Piango Mi metto a piangere E piangi Ma niente è più brutto Di quando mi dici che mi butti fuori dal campo Lì Siamo a livelli estremi di cattiveria E io vorrei soltanto luttare Perché? Ma hai rotto una cassa Ma minca Cioè mi devo incazzare Anzi mi incazzo con le trappole Basta Mi incazzo con le trappole Vedete che io ho mille di ping Quindi per favore Come mille di ping Sì Ho mille di ping Cioè che direi io non posso giocare Io non ho 177 Poi io non mi sono ancora rari Troppo Testa cosa Come è che Ma ti ho aiutato Raga perché siete due contro di me Che io posso usare sulle trappole Perché tu sei fortissimo Non viene Non vale Non vale Due Eh non è legit Ma chi è questo qua con me Oh ragazzi Mi avete rotto le palle di chiudermi E chi è Ma che è schiena di scudo Allora raga Mi sa che mi devo riscaldare Prendi venire qua che non riesco a chiudere bene Perché si Devo fare No io non riesco Sì No Ah ma questo è Michele Non ho capito Io non sto capendo Ma perché non scatta la trappola Che è Posso giocare anche Chi è Chi è Chi è il king Chi è il king06 Scusatemi Raga Chi è quello con Il Scrivi Per favore Chi sei king Chi è il king Se so chi sei E ho il tonic name support Ma tu puoi giocare Raga ma quello col babbola Te mi squadrono con me Sono io Cioè io ti ho trappato Per otto anni Non capisco perché non mori E' perché che mi squadra Assieme Oh tessè Ah ma te non sei Scusatemi Eh raga non sto capendo niente Ma tu c'è chi Ah ma tu Occhi di scusa Michele Tanto non mi ritrappi Non mi riesce a trappare Solo perché non ho fatto Un po' di riscaldamento Dici che non si riesco a trappare King chi sei tu per favore Me lo potresti dire Se non ti conosco Dammi il nickname Ma c'è uno che sta scrivendo in chat Il king 06 Che non capisco chi è Ma non è che No ma va E' 06 Ah è vero E' un bambino No no non è possibile Il king 06 Mi potresti dire Chi sai per favore O mi dà il nickname Se non ti conosco Oh non builda più Che cosa No come Calma 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 Ho finito le strappole Ti ho finito i colpi No 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 Fermo 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 Il babbo natale Ho finito i colpi ho finito i colpi Non ho colpi non ho colpi Sì sì alenze nel team Perché parco non mettono il distributore di materiali C'è il doca questa cosa E no è vero Ma trappali finiscono Oh madonna qua ci sono due trappole Comunque io babbo natale lo devo uccidere O con o senza o col pompa E manca una volta l'ho preso chiaramente Ragazzi guardate in cielo Oh mio Adesso Parato Raga dai Sono il king Con la mitraglietta Cosa ma Con la mitraglietta King mi devi dire il nome Ti faccio giocare tranquillamente O il C O il C Va cerchi di entrare nella chiesa ma non ci riesci Nel campo a niente Magari voglio farmi un po' Raga la crudeltà di Sandrelli è troppo È troppo È troppo Ascolta Però mi ha rotto le palle Scusami No l'ho preso Ma dov'è che è rotto Ma esci Ora ti scendi però prima tu Raga è difficilissimo Mentre fate rinforzo Peccati Oh si vai vai Bravo bravo Il mio bambino Ma porco no 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 colpi Raga un'idea Mentre voi fightate Io mi rubo all'ala E ho pure un cancro Guarda No 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 le trappole in mano Non è valido Ma forci sei squadra con me ancora Ah no scusa scusa niente Ma tipo se io Scusami la tecnica segreta del Del dragon slayer di poco Esatto Sì 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 Mi raffanculo Sandrelli Vieni qua Sandrelli Ah bo Grazie Mi ne faccio entrare Ma non mi fanno così Sono un umano Due Ne avevo Sai che non mi hai fatto neanche niente Non mi interessa Oh ma No No Sandrelli No fammi fammi Uccidere forci sul coso Sono i king Ma come fai Dio Oddio Ma quanto non è figo Buon Natale Su Attraverso tu C'è Tu ci fai A sto punto Tu tu adesso Non t'acolo Volci Ma sei tu ok Ma Daniele in tutto questo E Daniele è casciato L'ho detto prima Ah e non ti ho sentito scusami Daniele Ciao Ciao Io vorrei prendere il lama però Eh no questo lo prendo io Mi hai rotto le palle No ma io sto sparando a forci Tu ti metti in mezzo Mamma mia Che rotture che sei E' un lama scusa che faccio Non tendo un quarto di fila Ma guarda quanto non è figo Il babbo Natale Con me Il combo preferita va Volci Ma quanto C'è questo Ciao nabbo Dove il nabbo? No Tu sei forte No Raga non è vero Non è che so piazzare due trappole Allora sono forte C'è fuorci che ha due di vita forse Se va bene Ma non è vero Sì Questa per quanto ho di vita Precisamente Eccolo A posto Allora tu Hai rotto i ciali E' vero di passato No Anche Non mi uccide pure Perché ho tre di vita Che passa Ma va come scappa poi No Voglio ci fare da brelli No Non ha più colpi Non ha più colpi Ma di nuovo Raga mi prendo male E' il colpo ragazzi Cioè non voglio fare il fio così Ma secondo te Mi può interessare Che mi vanni da un canale Di 41 iscritti Cioè in senso Sei iscritto perché sei te Però Non è che Smerta a piangere Oppure Non sai che non mi interessa Se non ti interessa Perché non ho parlato E' questo Marco Perché non può Io sono Marco selvatico Ma se non ti ho Ma poi le sandrelli Ma poi se Accendali tu devi usare Solo le trappole Abbiamo detto E io sto sparando in giro A caso Poi se salti E' sopra le mie No trappole E' Eh Ma tu sei un Madonna Un mostro sei Sì sì Un mostro Quando gioco parco Poi quando gioco Che solo Che faccio Il tiro E Eravamo in due No Ero io contro un altro Voi ho pure Ho 5 kg Quindi Poi ci hai rotto le palle Praticamente Uno contro uno E io gli ho lanciato Una ballerina Che mi l'ho portata apposta E ho iniziato a fare Take DL Guarda dove Sandrelli Sbaglio E niente Ha vinto lui Eh Cioè Dipende di Sandrelli Ricordati che non puoi usare Armi Assoluto No No Questo è Polci Io non ho più colpi Ancora 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 La dubbio No Perché Ringrazio che c'era Polci Che mi ha chiuso Polci Ma non puoi cambiare Lo squadro Sì dai adesso la cambio Vabbè adesso non la cambio io Tanto devo pure rigenerarmi la vita Ehi Adi Com'è sta cosa eh Io non ti vedo più Raga Raga Io non ti ping No 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 Fa la foto No Mi è andato 6 Odici Forca Di ping Più 16 Di quello Dei server Certo Raga Mi chiedono il nome del team Il ping No Il nome del team Ho 5 colpi Sandrelli Ah ti chiedo il nome del ping Io ho 0 Materiai Io so Non puoi Non puoi Sandrelli No Non puoi No 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 Tu stai scherzando Vero Oddio Ragazzi No Sai che sei tipo un mini pasto da me Ma non riesco raggiungi per ti Ho un'idea Capirla No 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 Aspetta che sto giocando uccidere sandrelli Mi chiedono il nome del team No stavolta ragazzi dimmi il nome del team Allora possiamo il canale amiche elix C'è forza michelix fruttato Intanto io non l'obbligo No no è vero bravo Dai però Ma io ho avuto questa tecnica qua Adesso niente Quando inizio a guardare così già magari Ecco ora si spiega tutto Basta mo' altro che trappole Vado di picconati che è via Ehi scrivilo nel gruppo Marco Si chiede se si può abbandonare per iniziare il troppo di Tanto sappiamo tutti che Daniele entrerà nel team No 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 sto morendo A picconati con trompirla Fai pure in trappola ma continua a picconare il perterrito Basta basta Ok adesso mi sono armato come si deve Io ho zero colpi di tutto No cucina Hai detto che tanto Con michelix Una persona E Daniele C'è set in quattro Ma ora siamo in cinque non ho capito oggi siamo in tantissimi Ma chi è che c'è nel team Il like No nel team tu non ci sei perché non vuoi Ma Ma si ma che serve il team c'è basta che gioca E tu giochi se un bimino automaticamente Ma forci perché senti non vi sposare insieme E perché non mi fa stare da solo non so perché Sente dopo te ti sei in perito Quindi il gioco mi smanda Raga prendo un po' di trappole Ah Aspetta Forci prova a spararmi ora dove sai più o meno Raga ci siamo in tantissimi Cioè non ho mai fatto forse una live che è durata così tanto Che non che è durata però che ha avuto così tante views Folci dov'è che sei più o meno Eh a case rosse Sì Che vor di case rosse Oh Folci Oggi stiamo andando benissimo in live Stiamo tenendo un ritmo di cinque Eh beh Ma io sto fermo Ma Sandro Ragazzi mi fanno me veramente mustati urlanti No Ho trovato qualcosa veramente di peggio E tu non è È peggio del minore grosso Ma hai idea di cosa ho trovato Cosa Cadavere Dovina Il cadavere nel tuo bagno Oh Ah mo no Intanto tu non mi parli così Nooo Ti sono messo Sparami Oh Nooo 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 Ah ma ci diamo un hitbox a posto Eh no Vabbè sì ora usciamo Daniele Ma ti ha sentito Stai un attimo Aspetta Ce l'ho più qua E non ti ammazziamo Oh eh Mi ascolti Non mi puoi sparare con le armi Ah eh Scusami 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 Guarda No ti voglio far interare una cosa che forse non sai fare Tu quando fai rampa scala muro fai una roba del genere Cioè fai aspetta fai Sotto Rampa Due scale Sotto rampa due scale Cioè ci metti un bordello Invece fai semplicemente scala Poi ti metti al lato e fai Muro muro scala E così vai molto più Eh lo so ma non riesco Mi sono abituato così ormai Cioè non mi viene più ormai Non mi sono abituato così Non hai idea di finirci che non ti ho tirato Già Raga usciamo per favore Se no comincia a sperare Ah ma sei lì Eh ha già iniziato Ha già iniziato Noo Sei bugato come se No questo viene Eh Beh raga faccio come i vecchi tempi Corri vai Vai balliamo Sandralli Tanto poi mi uccidi No è diverso Tu mi uccidi È funzionato sempre così Oh Eh lo sapevo Io non capisco dove fulci È fulcissimi Metti il zombotto Che bello però Cosa Boh hanno scritto che bello però In chat Che bello che le mie cuffie non vanno più Non ha più materiali Non ha più materiale Si sono No raga no No raga no ma non sono forci di qualcosa per favore c'è noi se no mi costa il micro tocca ballarlo di nuovo ho finito i materiali di nuovo non posso ti ho preso no ogni infrante intanto che poi c'è trova le trajardat ma stavo pocci di sparo il scopo magari a trovare dove sei perché ti metti perfettamente e poi non mi vanno più già è molto bella storia ah ora si vanno questo tipo a dietro di me risi scomparire così io sento qualcuno sparare però non capisco dove fulci ecco dov'è fulci dove coglione questo sono io ma sto sparando in giro guarda come si è un rabbia ma voi le botte oddio ho visto fulci oddio che spavento fulci dove sei oddio io voglio io voglio poi ci sarà mio fulci è mio hai in mente come funzionano le armi no va spiega prendi un'arma e spari e succede che l'altro ma sai che non lo sapevo grande ma hai aperto la vita c'è sempre spazi per imparare così no ma io adesso devo trovare prima di tutto un meditit poi ne ripariamo un libro e altro non più munizioni sandralli non mi interessa perché tanto basta uso il check te lo sei visto tipo in faccia ma dov'è così ancora e non c'ho neanche i materiali e vabbè non riuscire e non era mostro era un quick stop perfetto testina ho trovato un campfire perfetto un crampfire si i crampfire sono per i tedeschi i campfire sono per gli inglesi e ci sono forse sento folci però non ha capito se folci no ma sarà sandralli no no è un grande sandralli ho tavola ma così da avere un'inizione infinite anche se non uso armi ragazze no sono caduta non l'ho preso cheat sì ma io so prendendo munizioni per cosa che tanto non le uso sandralli me ne dai un po' a me che non ne ho ma voi più o meno dove siete siamo oh è rotta le palle io lo vedo sandralli però lui non mi vede mi sa no ma tipo dove siete ma tipo che sto cecchina mona eh ti è bruciata ecco brucia no eri dietro al muro scala scala muro muro scala muro scala scala muro scala scala muro non è possibile ma facci perché non giochi boh io non lo so ho visto ho visto ho visto ho visto sandralli ho visto è qua da qualche parte dov'è lo segno mamma sono dopo sento fulci vedo fulci no 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 intanto mi devi prendere prima la rubanza non si perde ah fulci ma dov'è che ne trovi tutte ste bombette cioè c'è mi hai messo finimi nel culo non ho più materiali a posto ah chi ho finito io ho finito tutto mi metterò un passo da c'è si può la sfiga io sto giocando io sto giocando col piccone perché sei un figo è troppo porco porco tu è finita me ne vado no 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 come avete fatto no no sono caduto in quelle dopo già sei di vita sono caduto in quelle dopo già sei di vita no sono caduto che ti finiscono dolcemente non ti spieghi è qua è qua c'ho sei cazzo di vita dove sei sandelli vieni a me no c'ho sei di vita e questo va di più quelle prepotende no c'è ma si lisci non ti spieghi non ti spieghi mai no c'è ti spieghi era perfetta e tu vai sulle bombe oddio no ma non hai bucchio ma non hai che fatta sei di vita di sandrilli contro fulci e io di sandrilli c'era tantissimo forzo 2 no tu mi hai fatto ma non si usa anima 3 però quanto no no oh oddio k no 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 bolci no è di vita fulci ma che qui scopo ti ho fatto madonna no 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 bolci no 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 non c'ho più vita e non hai non ci pensi voglio difenderti da bocci no no ma questo chi è no no non sai niente e tra l'altro ho anche le cure ma che cosa avete colpi per favore avete vita per favore dai hai colpi hai colpi volci si ne ho un po' però avevi bisogno non ti sparo oh attento stai tranquillo via dalle palle no non ho colpi ma non ho vita non ho colpi sandrelli ho zero colpi io no e vabbè due di vita mi hai rimasto sandrelli mi da un po' di colpi per favore io ho abbassato il volume e mi sono messo in modalità tryhard anche se non mi vanno a dire adesso mi metto in modalità tryhard almeno le armi ceo non sento guarda che io ancora comunque non ho capito chi è quello che ha scritto king 06 raga ma mica dobbiamo quittare per un tipo è il fratello di michele ah va bene ma michele tu tra quanto devi andare no 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 limite perché stavi dicendo tua mamma fammi giocare un altro po' no perché stavo scherzando con mio fratello perché anche se ti ha detto no raga è la fine per voi è arrivata la vostra fine cosa hai trovato vai a vedere la live sandrelli tu la stai vedendo no vai a vedere vai a vedere un secondo ecco ma potessi di qualcosa a te perché lei chiede di uscire ah ma ah ma no ma io vabbè non sto capendo più io voglio giocare con voi sì io voglio giocare con voi lo sappiamo oh ragazzi andate a vedere la live vedete cosa ho trovato è bellissimo raga volete venire ah ah ok va bene dove sei vabbè guardo la live ma tu sei vabbè guardo il mondo lo scrivo marco trappani oh folci la storia hai visto cosa ho trovato io ho visto marco trappani perfetto this is scritto nice tu ci devi solamente provare ci ho già fatto però è rotto veramente il cazzo sandrelli capito in genere si ma io non c'è più ma ragazzi si è baggato tutto sparata non ti sei disescritto vaffanculo mi fai prendere dei colpi fra non è vero siamo ancora in 40 frate siamo ancora in 41 non è possibile che ti sei disescritto no no a meno che non sia scritto qualcun altro no no non si è ah forse king leo king leo 06 non ci ho detto ma la copa è come no eh di no sandrelli ti sei iscritto ti sei disescritto o iscritto chi no dimmi se ti sei disescritto devo un secondo capire una cosa disney eh disney la risposta tutta è disney no dai non ho capito sandrelli sandrelli dimmi perché devo capire una cosa io mi sono disescritto ok allora abbandono di bavo ah scusa non puoi dire chi si iscrive e chi si iscrive no dai no bravo è che il miterebbe la privacy anche voi il squid non potrei mai del cielo e ora che ti ho fatto buttare via le armi ti rubo il lancio anche se non lo uso lo tengo in persecuzione che poi non vuol dire niente polcico che sta facendo ma perchè gialla perchè mi fa trapassare perchè c'è giù ma trappani ma non doveva essere solida per la struttura non mi fa da in modo la ecco i ti bug potenza di polcico senza materiali senza niente ma folci non si fa mica fottere da uno che dice palle se ecco il cintanto che le cuffie non mi vanno in gioco dov'è che era sdc ma sei serio no poi ci facciamo un fight veloce dopo richiamo ah no si che è in giro è in giro e non parla perchè deve fare il bimbo di sti o forse non ne ha vieto un'altra non lo so e ma scusse non si vede e si vede poco no ah si c'è ancora c'è ancora è che ti postai parlando da solo perchè mi sono un bagazzere cucchiai di nuovo si si la tua coscienza scusa lui sta andando in cima sta andando in cima si dovrebbe vedere come sta andando in cima sono io a questo oddio è stra è stra giorgino cosa è stra giorgino cosa sta facendo oddio sembra super sbastico ma Marco che si ne ha fatto aspetta vieni qua da me che stiamo facendo il trenino di sbastici di sbastici ma c'è lì anche Marco si 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 non capisco oddio è super sbastico vieni vieni eh folci intanto che non mi va l'audio vieni qua ma dove vuoi vedere sparo un lancio radicinale faccio un po' di bollone sono tipo anche se non ti sento a sud di Pinnatoli nell'acqua ah ok ti sento ti sento ci sei e ci sono eh vieni hai capito dove più o meno ma perché fa il giorgino che sbastico dai vai vai stai imparando a bistarghi sui primi passi acco ci sei ma no sta facendo oh perchè a me? ma che ti ho fatto oh perchè a me? eh no stai parlando con i due trapponi prova a chiamarlo no ma sta giocando sta facendo il bambino tipo giorgino cioè se guardi ora mentre non lo guardiamo si sta impegnando però deve fare i kick capa mia cosa fa? perchè sei capitato stupido? cosa fa? nooo aiuto 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 ciao è arrivato trappani non ho capito no sono in trappola ma cos'è che sta facendo troppani tra l'esercizio stigli di siti ma l'hai provato a chiamare no vabbè facciamolo ah l'ho sentito è di è di è di guarda oddio è fuori oddio è fuori oddio ma come cosa stai facendo ma facciamogli delle donazioni questo ragazzo è un po' speciale ma cosa stai facendo perchè devi fare speciale no non riesci a prendermi no eh sta balla si ci sente ci sente di qualcosa per farlo ridere tipo che fai solo te qui fuori fuori io mi nascondo di giro trappi marco fuori wow e poi ecco perchè non ti ho fatto a me e allora c'è il tuo e xd xd no ti sentivo comunque ma basta che un qt no aspetta che gli faccio una casetta no fermo la casetta per i bimbi i xd xd ehm ah quindi ancora in là basta non parlo più neanche io ma facciamo che lo faccio un po' più che almeno si spiega a parlare non è potbo basta col cistenti ciò 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 stavo c'è ah rapani so che mi senti quindi ti dico che ti senti e ti senti Sì, 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 sì. Oh, Sandrelli. Oh, Sandrelli. Daniele. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Ma perché a Fulci se n'è andato? Perché... Sì.